L'arte che racconta l'arte con la mostra La scultura di Donatello nelle fotografie di Antonio Quattrone, allestita nelle sale espositive della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Beruschi ad Arezzo. È un'occasione straordinaria di conoscere due cose in una volta. L'opera di Donatello, analizzata in tutti i suoi più significativi particolari, e la grande capacità di un fotografo d'arte come Antonio Quattrone, che abbiamo voluto presente all'interno del percorso di Casa Bruschi, mentre a Firenze, in Palazzo Strozzi, è stata inaugurata la mostra Donatello, il Rinascimento. Trenta gli scatti in esposizione con i quali il fotografo ha documentato importanti cicli pittorici e restauri di celebri opere del Rinascimento. Io documento l'opera d'arte nel completo, perché le mie fotografie servono a studiarla, a fare studi accurati. Io sto attento anche a dargli una tridimensionalità all'opera, a dargli un'espressione, cioè non illumino un volto o un testo di una scultura in modo qualsiasi. Cerco di trovare il carattere di quella scultura, per dargli un'impronta precisa. Fino al prossimo 22 maggio, i visitatori potranno così ripercorrere l'intera vicenda artistica del maestro Fiorentino nelle sale della Casa Museo, recentemente entrata a far parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo ha inteso, anche con la nomina del nostro Consiglio di Amministrazione, avvicinare molto la città a questo ente che rappresenta un centro di cultura, di arte e anche di economia. Quindi il 2022, che rappresenta il ventennale, io sono convinto sarà un anno splendido.